In questo video ti mostrerò come trasferire, ossia migrare un sito WordPress da un'installazione locale ad esempio su Mac o su un PC Windows a un server remoto, un classico server in hosting basato su cPanel. Partiamo quindi da un sito WordPress installato in una versione locale. Io in questo caso ho utilizzato Mamp Pro per gestire la mia installazione locale ma come ti ho mostrato in alcuni video recenti puoi utilizzare benissimo un software come Desktop Server oppure un'altra soluzione come Shemp o altro software. L'importante è che tu abbia la possibilità di installare WordPress in locale sul tuo Mac o sul tuo PC. Ti servirà poi un browser per accedere appunto a WordPress e un software come ad esempio Filezilla per accedere al server FTP. Prima di procedere oltre ovviamente a disporre di una copia di un'installazione di WordPress in locale sul tuo Mac o sul tuo PC assicurati di avere le credenziali di accesso per accedere al server remoto via FTP e al pannello di controllo tipicamente cPanel del tuo hosting in modo da poter creare un database. Perché il database? Essenzialmente perché trasferire un sito WordPress non significa semplicemente spostare dei file dal tuo computer al server remoto via FTP ma devi anche trasferire un database che contiene i contenuti creati sul tuo sito in locale a un database server presente sul server in hosting. Vedremo comunque come fare. il primo passaggio consiste nell'individuare dove sono situati i file del tuo sito WordPress sul tuo Mac o sul tuo PC e questo dipende da dove tu hai impostato la cartella di lavoro del server locale sia desktop server sia MAMP o quant'altro. Nel mio caso la cartella è posizionata in Macintoshardisk utenti tx.city e il sito che andiamo a trasferire l'avevo installato in una cartella chiamata sito wordpress.local chiamata come il dominio del mio sito locale. Teni presente che questo dominio sito wordpress.local è un dominio locale ossia funziona solo ed esclusivamente sulla mia macchina non è un dominio accessibile da terzi. Come vedi in questa cartella sono presenti tutti i tipici file di wordpress cartella wp-admin wp-includes la cartella wp-content che contiene i temi attualmente presenti sul mio sito e anche il tema attivo al momento e anche un paio di plug-in presenti su questo sito. Io quindi dovrò trasferire tutti questi file sul mio server remoto. L'operazione che ti faccio vedere in questo video rappresenta un'operazione di trasferimento base standard di un sito wordpress. Esistono sicuramente modalità più efficienti e più veloci per trasferire un sito. Questa però è l'operazione base che ti consente di capire tutti i passaggi necessari per effettuare una migrazione di un sito wordpress da una macchina locale da un mac o un pc a un server remoto in hosting. Una volta individuati questi file è necessario trasferirli su un server remoto il server in hosting. Per compiere questa operazione è necessario utilizzare un client ftp. Io ti consiglio anche perché è gratuito filezilla. Una volta scaricato il programma e lanciato puoi o inserire direttamente il nome host fornito dal tuo provider, il nome utente e la password per collegarti oppure per facilitare l'operazione in un momento successivo puoi creare direttamente un preferito in modo da poter accedere rapidamente tutte le volte al tuo server senza dover reinserire ogni volta i dati. Come fare? Te lo spiego molto rapidamente. Clicca su questo pulsante in alto a sinistra crea ad esempio una cartella e la chiami col nome del provider all'interno di essa crea un nuovo preferito chiamiamo semplicemente mio sito e qua andrà a inserire tutti i dati forniti dal tuo fornitore di hosting dal provider. Una volta inseriti indirizzo ip nome utente e password possiamo cliccare su connetti se ti appare questo messaggio per il certificato del server clicca pure qua e poi ok la connessione è stata fatta assicurati che nel lato sinistro tu sia nella cartella locale dove presente il tuo sito wordpress e nella destra probabilmente ti si aprirà una cartella di questo tipo dove tu dovrai cliccare su public html per accedere alla cartella contenente anzi che dovrà contenere i file del tuo sito. Puoi tranquillamente selezionare tutti i file presenti sulla tua cartella locale una volta selezionati puoi o trascinarli qua nel lato destro o semplicemente passandosi sopra col mouse cliccando sul tasto destro selezionare upload. Una volta fatto ciò filezilla procederà a caricare uno dopo l'altro tutti i file e le cartelle presenti sul tuo computer e le trasferirà sul server remoto. A seconda della velocità di connessione questa operazione può richiedere qualche minuto o anche un quarto d'ora 20 minuti un'ora a seconda di quanti file tu hai presente chiaramente se nell'istituzione locale hai caricato centinaia o migliaia di immagini il trasferimento durerà molto di più. Una volta completate l'operazione di trasferimento troverai nella sezione di destra esattamente tutti i file che vedi nella sezione sinistra ossia nella tua versione locale di wordpress e qua a destra invece troverai la versione remota presente sul server in hosting. Possiamo tranquillamente rimuovere questi file dato che non ci sono di nessuna utilità. una volta fatto ciò torniamo al nostro pannello di controllo cpanel in questo caso vediamo che il nome di dominio del nostro server in hosting associato al nostro server in hosting è questo lo copiamo apriamo nuova scheda vincoliamo e proviamo visitarlo ci appare questo errore errore nello stabilire una connessione al database questo perché fondamentalmente perché il file vp-config.php che adesso visualizziamo contiene le informazioni relative al database ossia il nome del db il nome utente del database la puzzle del database e l'host del database ancora associate alla nostra installazione locale noi dovremo adattare queste informazioni al server remoto quindi come prima cosa ci posizioniamo nel nostro cpanel e andiamo a creare un nuovo database possiamo sfruttare o questo strumento o la procedura guidata il database in questo caso utilizziamo la procedura standard andiamo in database msql ci chiederà di creare un nuovo database il prefisso normalmente su cpanel è già assegnato in base al nostro nome utente quindi noi possiamo decidere la seconda parte del nome chiamiamolo semplicemente test diciamo crea database in questo caso abbiamo creato questo database nuovo quindi copiamo il nome andiamo ancora su filezilla clicchiamo su wp-config.php col tasto del mouse e scegliamo visualizza modifica se ci chiede questa informazione facciamo riapri il file locale che l'abbiamo appena scaricato quindi database name andiamo a modificare con il nome del database appena creato torniamo sul pannello di controllo dobbiamo creare anche un nome utente che acceda al database quindi lo chiamiamo ad esempio user e gli assegniamo anche una password possiamo sfruttare il generatore di password in modo che la genere in automatico la copiamo confermiamo il fatto di averla copiata diciamo di user la password crea utente torniamo nel nostro file che stava modificando inseriamo la password appena creata e copiamo anche il nome utente del database localhost rimane perché in questo caso il server remoto il database server remoto funziona risponde su localhost quindi possiamo tranquillamente salvare il file e chiudere file zil ci chiederà accorgendosi che il file sto modificato se vogliamo salvarlo e caricarlo sul server diciamo sì in questo caso per sicurezza possiamo andare a rivisualizzarlo un'altra volta abbandona il file locale quindi scarica il nuovo file e vediamo che effettivamente nel file presente sul server sono presenti le modifiche appena inserite possiamo quindi di nuovo chiudere questo file rimane ancora un passaggio da fare ossia quello di associare il nome utente database appena creato con il database creato quindi torniamo nel pannello di controllo non dobbiamo far altro che assegnare quest'utente appena creato al database creato cliccare su aggiungi in questo caso per semplicità facciamo pure tutti i privilegi apporta modifiche in questo caso abbiamo associato l'utente al database visitando il nome e dominio del sito ora non ci viene più restituito il problema di errore di connessione al database ma ci viene chiesto se vengono chieste le informazioni per installare un nuovo sito WordPress questo perché? perché il database che noi abbiamo appena creato è vuoto non contiene tutti i dati presenti nella nostra installazione locale di WordPress dovremo quindi procedere a trasferire il database che noi abbiamo sul nostro Mac sul nostro Windows sul server remoto per fare questo a seconda del software utilizzato sul tuo Mac o sul tuo PC per installare WordPress la procedura potrebbe essere lievemente diversa il senso però qual è? è quello di accedere ad esempio in caso di MAMP c'è una sezione tools phpMyAdmin anche nel caso di desktop server, di Shemp o di altre soluzioni c'è comunque un modo per accedere a un phpMyAdmin della tua installazione locale un qualcosa di questo tipo aperto phpMyAdmin nella colonna di sinistra troverai l'elenco di tutti i database presenti sul tuo server locale se non sai come si chiama il nome del database utilizzato dal sito che intendi trasferire la procedura da fare è molto semplice ti basterà andare nella cartella locale del tuo sito dove è presente il tuo sito aprire il file wp-config.php con un editor di testo e qui troverai la costante dbname con il nome del database utilizzato in questo caso sito wordpress possiamo chiudere il programma e tornare a phpMyAdmin quindi scorrendo tra i vari nomi dei database sito wordpress è quello che ci serve qua vedrai tutte le tabelle elencate senza andare troppo negli aspetti tecnici quello che ci interessa è esportare questo database quindi clicchiamo su export possiamo scegliere l'opzione veloce oppure quella custom assicura di aver selezionato tutte le tabelle seleziona save output to a file volendo puoi anche comprimere in formato zip il file esportato va in fondo alla pagina e clicca il pulsante go ti chiederà dove salvare il file ok in questo caso il file l'abbiamo appena salvato e lo troviamo in un file zip possiamo chiudere tranquillamente il phpMyAdmin locale e tornare al cpanel del nostro server in hosting eravamo rimasti qua in questa schermata torniamo alla home del nostro pannello di controllo e all'interno delle varie voci troveremo una chiamata phpMyAdmin ci basterà aprirla selezionare il database che abbiamo creato pochi minuti fa selezionare importa o import a seconda se phpMyAdmin l'abbiamo in versione inglese o in italiano importa sfoglia e qua andiamo a cercare il file sql.zip creato pochi istanti fa una volta selezionato diciamo apri e successivamente ci basterà cliccare il pulsante esegui in questo caso il database essendo molto molto leggero come dimensione e come contenuti l'operazione dura veramente pochi secondi possiamo visualizzare immediatamente la struttura del nostro database avendo già impostato all'interno del file wp-config.php del nostro sito trasferito sul server remoto tutte le credenziali per accedere correttamente al database adesso ci aspettiamo di trovare il nostro sito locale perfettamente trasferito torniamo quindi sul nome di dominio del nostro sito facciamo un refresh e vediamo che effettivamente il sito è stato apparentemente correttamente trasferito proviamo quindi a effettuare un login e qua notiamo il primo problema siamo stati rimandati sull'indirizzo del server locale quindi è come se tutto il sito trasferito abbia però mantenuto in memoria il vecchio indirizzo è quindi necessario effettuare un'operazione di cerca e sostituisci per rimpiazzare tutte le vecchie occorrenze del vecchio dominio all'interno del database per fare questo una delle modalità più semplici è quella di utilizzare un programma apposito chiamato database search and replace script in PHP basta andare su questo dominio oppure semplicemente cercare su google wordpress search and replace il primo risultato è appunto questo presente sul sito interconnected clicchiamo qua scendiamo in basso e scarichiamo l'ultima versione andiamo a prendere il file lo scompattiamo possiamo sia rinominarla sia lasciare così e a questo punto ci spostiamo in filezilla perché dovremo trasferire quella cartella sul server remoto perché ci servirà anche solo per pochi secondi ma dobbiamo trasferirla eccola qua tasto destro upload e in pochi secondi la cartella è stata trasferita a questo punto copiamo il nome della cartella perché dovremo tornare al dominio del nostro sito aggiungere uno slash incollare il nome della cartella in modo da accedere al programma che abbiamo appena caricato sul server questo programma consente di cercare e sostituire qualunque stringa presente nel database di wordpress in questo caso quello che a noi servirà è fare in modo che tutte le volte che nel database è presente sito wordpress.local questo venga rimpiazzato con provahosting ssd provahosting-ssd.it o col nome e dominio chiaramente che tu utilizzi è importante fare in modo di rimuovere tutti i vari caratteri in eccesso come gli http gli slash i due punti e anche un eventuale slash finale in modo che non sia ad esempio fatta un'operazione di questo tipo perché in questo caso qua uno slash e qua non ce l'ho devono essere fondamentalmente i nomi di dominio precisi quindi questo è il mio dominio locale questo è il mio dominio remoto ora posso quindi procedere a scliccare o dry run per fare una prova ma senza modificare nulla o se sono sicuro di quello che sto facendo cliccare live run e poi ok e questo script procederà a sostituire tutte le occorrenze di sito wordpress.local in prova hosting trattino ssd.it una volta terminato ci viene mostrato un resoconto e possiamo cliccare delete me per fare in modo che questo script si cancelli da solo dal server per questioni sicurezza perché lasciarlo sul server attivo non è sicuramente una buona idea possiamo quindi chiudere questa finestra torniamo quindi al nostro server remoto possiamo chiudere tranquillamente questa e questa ok torniamo al nostro server remoto e questa volta proviamo a loggarci ed effettivamente la procedura di login si mantiene sul nostro dominio possiamo quindi provare a effettuare il login con le stesse credenziali che utilizzavamo sull'installazione locale di wordpress ed effettivamente tutto sembra funzionare anche andando in impostazioni generali vediamo che sul server remoto tutto è impostato con il nome di dominio corretto se noi invece proviamo a tornare sul nostro server locale come puoi vedere dall'indirizzo andando in impostazioni qua vediamo il dominio locale tutti gli articoli sul server locale tutti gli articoli sul server remoto troviamo anche la cartella media vediamo le immagini presenti e trasferite sul server remoto e le immagini presenti sul server locale possiamo quindi dire che il nostro sito è stato perfettamente trasferito da un'installazione locale a un server remoto in hosting a un server